Buongiorno ad FTE Online, avvio in calo questa mattina per la borsa, il Fuzzimib lascia sul terreno 0,5% circa, oggi come sappiamo c'è la riunione della BCE e soprattutto alle 14.30 il dato sull'inflazione USA, il mercato sta guardando a questi appuntamenti ormai da alcune sedute, infatti dopo il rialzo che abbiamo visto settimana scorsa negli ultimi giorni c'è stato un ripiegamento anche se non particolarmente significativo, ovviamente dopo le 14.30 sapremo che cosa intendono fare le borse, per il momento se andiamo a guardare il dollaro, questo è l'andamento intraday dell'euro dollaro, vediamo che si è rafforzato sull'euro nelle ultime ore come se il mercato si aspettasse un dato negativo sull'inflazione USA, ovvero sia un dato molto forte, ovviamente questo implicherebbe una propensione in futuro al rialzo dei tassi da parte delle banche centrali e di conseguenza un apprezzamento del dollaro. Anche per quello che riguarda il DAX abbiamo visto una fase di ripiegamento sia nella giornata di ieri che in quella di oggi, per il momento i prezzi si mantengono al di sopra di questa importante trend line, quella che parte dai minimi di fine ottobre e della media esponenziale a 20 giorni. La media passa intorno ai 15.510-20 punti, fino a che saremo al di sopra diare 15.500, quindi si può continuare a sperare in una evoluzione positiva. Vi faccio notare che questa linea crescente è la base di questa figura a forma di cono, che potrebbe essere una figura terminale per quello che riguarda il rialzo partito dai minimi di marzo del 2020. Questa tipologia di figura si chiama ending diagonal e nella teoria delle onde di Elliot sarebbe l'onda 5 di tutto il movimento partito appunto da marzo 2020. Voi sapete che le strutture impulsive si costruiscono con 5 segmenti, se questa fosse l'onda 5 avrebbe dire evidentemente che la struttura impulsiva è finita e che quindi ci si può aspettare una fase ribassista anche estesa. Per il momento siamo comunque al limite, ancora non è stato inviato un vero e proprio un po' segnale di debolezza, pertanto rimaniamo in attesa di capire cosa vorrà fare il mercato. Oggi ci occupiamo di alcuni titoli per quello che riguarda la versione completa del video per il quale ci sono notizie interessanti, Eni, Deutsche Bank, Alzel, Target Price a 13,20 Euro da 11,70 con rating buy. Il titolo questa mattina non è particolarmente brillante perché a seguito del rafforzamento del dollaro abbiamo visto un ripiegamento del prezzo del greggio. Su STM Equitasim ha evidenziato che il SIO ha quantificato il GEPTA domanda offerta nel 2021 nell'ordine del 20% rispetto alla guidance di fatturato per il 2021, quindi il fatturato potrebbe salire dai 12 miliardi circa attesi a più di 14 miliardi. Per quello che riguarda la banca IFIS, l'agenzia di rating Fitch rivede l'outlook a stabile da negativo confermando il rating della banca. Stellantis oggi soffre, c'è infatti la notizia che la produzione presso tre stabilimenti, uno negli USA, uno in Canada e uno in Messico, è stata sospesa sempre per la questione della mancanza di semiconduttori e somme che invece va molto bene oggi in borsa dopo l'annuncio di nuovi ordini per 100 milioni di Euro. Per quello che riguarda la versione del video di libero accesso, volevo guardare insieme a voi l'andamento di STM che come abbiamo detto oggi è in forte crescita, confrontandolo anche con quello che è l'indice SOX dei semiconduttori di Philadelphia che è il riferimento per tutto il comparto dei semiconduttori a livello mondiale. Iniziamo con l'analisi del titolo, c'è sicuramente in atto una fase di rimbalzo, del resto se andiamo a guardare nel corso del mese di maggio i prezzi hanno disegnato questo doppio minimo, quindi ci sono stati i presupposti per una reazione, questo rimbalzo però per il momento si è limitato a ritracciare solo una porzione della precedente discesa se andiamo a prendere questo massimo e calcoliamo i ritracciamenti, vedrete che il massimo del primo di giugno si è fermato sul 50% retracement e la resistenza intorno ai 31 Euro, il massimo del primo di giugno era 31,22, quindi questa mattina siamo tornati su quei livelli, se ci fosse la rottura di area 31 anche in chiusura di seduta sarebbe possibile puntare al ritorno verso 32,20,32,25. Solo se dovessimo salire al di sopra di questo riferimento, quindi questa è la linea che sostiene tutta la fase laterale che abbiamo visto dai massimi dell'8 di dicembre, se noi tracciamo la parallela a questa linea dal massimo dell'8 di dicembre otteniamo una resistenza intorno ai 34,50 Euro, ebbene solo sopra quei livelli verrebbe cancellato in maniera definitiva il rischio dell'avvio di una fase negativa e vi spiego anche il perché, se andiamo a questo punto a guardare il nostro indice SOX dei semiconduttori, vi faccio intanto vedere la similitudine che c'è tra i due grafici, ovvero sia in alto abbiamo l'indice SOX e in basso abbiamo l'andamento di STM, vedete che le due curve sono estremamente simili come punti di svolta, se andiamo a guardare l'indice SOX dei semiconduttori, troviamo che c'è un rischio rischio di un test spalle ribassista in formazione, la prima spalla sarebbe questo massimo del febbraio di quest'anno, poi la testa sarebbe il massimo del 5 di aprile e la seconda spalla il massimo del primo di giugno, è vero che siamo molto lontani dalla base della figura, sarebbe necessario che i prezzi scendessero al di sotto del 2009 per completarla, però per adesso c'è appunto questo rischio di essere in una situazione di distribuzione, ovvero sia di una fase che sia introduttiva ad un ribasso che vada a correggere tutta la salita che c'è stata dai minimi di marzo dello scorso anno.